eccoci qua sempre davanti al monviso ma il mio umore è un po cambiato rispetto a ieri che dire ce l'ho con la mala gestione con la mala politica di questo posto qui fa capo questa meraviglia della natura da qualsiasi altra parte nel mondo il monviso sarebbe un'eccellenza un gioiello invece qui è nel dimenticatoio bandito da qualsiasi meta turistica la stazione di piammone dove mi trovo adesso non aprirà quest'anno quella di crisolo un po più in là sotto il monviso non si sa vabbè la crisi direte voi e sono d'accordo ma la cosa grave è che non apriranno quest'anno nemmeno le strade di eccesso quindi chi non è appassionato di sci alpinismo come me che può mettersi gli sci ai piedi anche a mille metri e salire non potrà invece arrivare con la macchina in questi posti e godersi questi panorami non ho parole forse ci meritiamo da queste parti quello che abbiamo cioè niente forza bossa non bossi bossa walter maestro di sci qui di paesano che ci sta mettendo del suo per far di tutto per far riaprire questa stazione il prossimo inverno ciao buona giornata